benvenuti a tutti buonasera questo è il quarto incontro quarto webinar organizzato dall'osservatorio penso che tutti voi se vi siete collegati conoscete l'osservatorio sui scopi i suoi intendimenti di operare a tutela del territorio dell'ambro in particolare di tutto quello che sta intorno il tema di oggi è appunto il monitoraggio e l'esperienza di monitoraggio un tema che capita un po pennello perché come anche questo molti di voi sapranno abbiamo definito quest'estate è ulteriormente implementato come sottoscrizione di documenti un accordo un patto di collaborazione con il comune di milano proprio per il monitoraggio ambientale del fiume lambro nel tratto cittadino ma che poi per si diffonderà anche almeno come i nostri scopi anche per il resto del dell'asta fluviale sia monte che a valle quindi ci stiamo avviando verso un'esperienza interessante nuova per molti di noi perché esperienze italiane in questo campo non ce n'è molte anzi sull'acqua molto poche anche se ci sono persone che hanno cominciato questa strada e sono qua con noi perché saranno i relatori di questa sera a cominciare da Paolo Bonelli che si occupa di questioni ambientali fin dall'inizio della sua carriera lavorativa continuato ancora si è diciamo dedicato negli ultimi tempi proprio alla realizzazione di strumenti per il monitoraggio proprio per a supporto perché senza di quelli non si può fare un monitoraggio diciamo analitico per dare ai cittadini che sono interessati a dare un contributo ulteriore la possibilità di costruirsi o di gestirsi e quindi sarà interessante sentire la sua esperienza in proposito ma anche i relatori che poi seguiranno sono con modalità diverse dedicate alle esperienze di monitoraggio magari non analitico ma anche analitico penso all'esperienza dell'istituto molinare che prima che si parlasse di monitoraggio civico di fatto in maniera un po' embrionale ma aveva già cominciato a farlo diciamo come esperienza della scuola parecchi anni fa e quindi diciamo le nostre esposizioni ci daranno proprio una conoscenza maggiore di questo di questa modalità di partecipazione attiva alla tutela dell'ambiente alla diffusione delle conoscenze fra di noi e speriamo appunto che di riuscire a coinvolgere uno dei principali scopi anche del fatto che abbiamo fatto con il comune volontari cittadini che si dedichino a questo compito io direi visto che il tempo che ci siamo dati è la solita ora e mezza da adesso fino alle sette direi vi saluterà anche Gianni ma probabilmente il presidente dell'osservatorio interverrà magari dopo quando vuole e dopodiché se vuoi fare un saluto poi darei la parola a Paolo Bonelli che seppur velocemente abbiamo presentato ma che eventualmente si presenterà a lui dicendo un po' tutto quello che ha fatto bene buon ascolto a tutti io mi taccio e poi un saluto un saluto proprio giusto due secondi per per ringraziare tutti della partecipazione e dopodiché magari diremo qualche cosa prima della seconda parte adesso vorrei subito lasciare la parola a Paolo Bonelli che ci parlerà degli strumenti autocostruiti che poi andremo a commentare più avanti. Buonasera a tutti grazie Gianni grazie Carlo io come diceva Carlo mi occupo di alcuni anni di elettronica open source in particolare applicata al strumenti per il monitoraggio ambientale monitoraggio dell'ambiente strumenti che diciamo progetto costruisco in un'ottica non tanto commerciale anzi per niente ma un'ottica di condivisione di conoscenze questo perché lo ritengo fondamentale per tutto quel mondo chiamato citizen science che deve usare strumenti sia da una parte economici quindi accessibili e sia strumenti aperti cioè che possono diciamo in cui si può mettere le mani si possono modificare e si possono diciamo adattare alle esigenze. Vado subito alle mie slides quindi condivido lo schermo ecco qua ditemi se si vede si vede si 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 vede si vede ok allora prima cosa da capire brevemente non la faccio molto lunga sono le differenze tra uno strumento che misura l'ambiente eh che misura alcuni parametri ambientali eh commerciali e uno autocostruito eh le differenze per esempio potrebbero essere sul costo sul costo ehm c'è tanto da dire eh per esempio eh faccio un breve esempio esistono strumenti commerciali per la misura del pH dell'acqua del fiume dell'acqua che esce dal rubinetto ehm che sono semplici da usare hanno un piccolo display che vi dice la il pH e mh e costano anche relativamente poco però sono strumenti chiusi cioè nel momento in cui io voglio o trasmettere questi dati all'esterno o memorizzarli su un database un eh un data logger e così via già non lo posso fare nemmeno posso modificarli questi strumenti perché sono tutti come si dice imbebbed cioè ehm eh diciamo tutta l'elettronica è concentrata magari in un unico citto per cui è difficile metterci le mani eh altrimenti se voglio altre funzionalità ecco che i costi degli strumenti commerciali salgono molto per esempio ehm per esempio come dicevo prima la la funzionalità di data logging cioè ehm la registrazione dei dati con la data e l'ora eh in un su un supporto computerizzato come una una un SD card per esempio già questa funzionalità eh aumenta moltissimo il costo degli strumenti commerciali ehm un'altra differenza sta nell'adattabilità funzionalità a funzionalità diverse e nuove cioè una volta che noi abbiamo acquisito un po' di esperienza nel costruire lo strumento con l'aiuto ovviamente di chi condivide queste conoscenze quindi di altri quelli che si chiamano maker altri costruttori di queste di questi strumenti eh ecco che rimane più facile eh adattare questi strumenti ad altre esigenze quindi non so per esempio fare misure più frequentemente o meno frequentemente e e così via eh stimolare cultura tecnica e scientifica questo è molto importante cioè se lo strumento è aperto e autocostruito è molto più facile eh stimolare uno studente o un volontario o un cittadino in generale a ehm a eh capire il funzionamento quindi capire anche lo scopo dello strumento la misura che deve misurare e così via quindi senz'altro gli strumenti autocostruiti hanno questa particolarità e poi inducono alla condivisione di conoscenze ed esperienze proprio perché ehm anch'io quando costruisco uno strumento non lo costruisco mai da zero ma mi avvalgo delle conoscenze di tante altre persone c'è chi ha sperimentato quel sensore c'è chi ha scritto un pezzo di software indispensabile per far funzionare una scheda e così via tutte queste persone che stanno nel mondo poi non è detto che stiano vicine a noi eh tutte queste persone contribuiscono mettono a disposizione la loro esperienza gratuitamente eh gratuitamente spassionatamente diciamo questo è il mondo dell'open source bene ehm fatta questa premessa vado avanti con ehm presentare diciamo eh alcuni strumenti che ho costruito ehm per esempio per misurare eh la torbidità la conducibilità elettrica il pH e ehm ehm e poi anche l'ossigeno disciolto però ehm magari non ci sarà il tempo di parlare di tutti eh farei una prima grande divisione tra strumenti da usare sul posto quindi da usare manualmente eh oppure in laboratorio in presenza di operatore o quindi su campioni di acqua oppure strumenti da lasciare sul posto per un controllo remoto. ecco ecco queste sono due modalità di eh di procedere ehm che ehm servono a scopi diversi cioè un conto è l'analisi periodica dell'acqua che si può fare quando un volontario va a prendere un campione in un certo posto una volta al giorno una volta alla settimana fa le analisi e eh e diciamo pubbliche i dati oppure diciamo li li memorizza da qualche parte. e un conto invece è uno strumento che funziona in continuo notte e giorno per un determinato tempo eh che mi serve proprio per ehm evidenziare delle anomalie in alcuni parametri dell'acqua. anomalie che possono essere diciamo interpretate come un fenomeno di inquinamento per esempio di di uno scarico in un fiume ehm di qualcosa di anomalo quindi che mi danno in un certo senso un allarme no? no? Per andare a fare indagini poi più approfondite. Bene eh passo subito alla torbidità. La torbidità dell'acqua come molti sanno è una proprietà ottica dell'acqua. quindi quanto più l'acqua è trasparente quanto meno è torbida. La torbidità quindi viene misurata eh proprio con un sistema ottico. Ci sono due procedure da fare. Una è con ehm la trasmissione di un raggio di luce in modo diretto. cioè io ho da una parte una sorgente luminosa che può essere un led infrarossi per esempio. Dall'altra un fotodiodo cioè un sensore che mi rileva la quantità di luce eh più l'acqua è torbida e meno luce arriva. Va bene. La torbidità cioè l'attenuazione della luce è prodotta da particelle in sospensione nell'acqua. Cioè particelle che eh non non sono solubili nell'acqua. Quindi può esserci di tutto diciamo dal dal fango eh che viene rimosso dal fondo di un fiume fino all'inquinamento. Vari tipi di inquinamento. Quindi la torbidità non è un parametro legato a una forma precisa di inquinante. Ma è un semplicemente un parametro ottico che ci può segnalare la presenza eventuale di inquinamento. Ehm naturalmente deve essere usato insieme ad altri parametri. Quindi una modalità è quella luce diretta che vedete sulla sinistra. Un'altra modalità è quella luce diffusa dove eh il fotodiodo, il sensore è piazzato a 90 gradi circa. rispetto al raggio di luce. In questo in questa modalità la maggiore la torbidità dell'acqua e maggiore la luce diffusa verso il fotodiodo. Quindi sono due modalità diverse che si possono usare ambedue in e danno informazioni complementari. Qui vediamo alcuni sensori che vengono usati negli strumenti autocostruiti. A sinistra vedete un sensore a luce diretta. In pratica pensate che questo sensore viene usato nelle lavastoviglie per vedere eh per far capire al cervello della lavastoviglia quanti risciacqui deve fare sostanzialmente. Quindi eh c'è una parte eh impermeabile, vedete che viene messa a contatto con l'acqua, è una parte elettrica che esce fuori. L'altro sensore che vedete qui è è a luce diffusa. Praticamente eh che cosa si è fatto? Si è inserito un il fotodiodo, un fotodiodo molto sensibile dentro una cuvetta che sono le stesse che vengono usate nei colorimetri, per chi è chimico le sa queste cose. Eh sono delle praticamente dei piccoli recipienti di plastica trasparente che hanno almeno un lato molto trasparente e sono ehm una volta tappati sono abbastanza ermetici. Nell'altra cuvetta viene messo il fotodiodo infrarosso. Queste due ehm cuvette vengono immerse nell'acqua, naturalmente devono essere tenute ferme a una certa, a una giusta distanza. Vedete qui a destra le due cuvette posizionate all'interno di una sorta di camaro scura, cioè di scatola nera, perché ovviamente eh lo strumento non deve essere influenzato da luci esterne e in particolare qui vediamo uno strumento che misura la turbidità a luce diffusa che può essere eh messo completamente sott'acqua, quindi nascosto in un certo senso e eh quindi ha tutto un involucro impermeabile e con la trasmissione dei dati attraverso un'antenna radio, una piccola antenna radio che ovviamente sta fuori dall'acqua. Questo è lo strumento, lo faccio vedere, è stato costruito con del plexiglass nero eh tagliato con un laser cut che è una macchina a taglio laser e sopra è stato montato un barattolo per alimenti con coperchio abbastanza ermetico, cioè in effetti non passa l'acqua, qui è un barattolo di plastica che costa pochissimo e dentro vedete c'è tutto, c'è la parte elettronica, la batteria e mh e il transceiver radio che attraverso questa antenna, attaccata a un pezzo di di polistirolo espanso che galleggia fuori dall'acqua, può trasmettere i dati di torbidità alla frequenza che vogliamo. Questa tecnologia di trasmissione dati via radio è abbastanza nuova perché consente, è una tecnologia che consente distanze dell'ordine di uno o due chilometri, dipende dagli ostacoli che ci sono, ehm con un bassissimo dispendio di energia, quindi la batteria a bordo di questo strumento dura, può durare abbastanza anche mesi. a distanza appunto di uno o due chilometri possiamo avere un ricevitore fatto con la stessa elettronica che preleva questi dati, riceve questi dati e poi se vogliamo li trasmette anche su internet. Questa è la versione dello strumento a luce diretta, sempre per la torbidità. Il tutto è inserito, vedete, in dei tubi che sono i tubi in PVC che si trovano comunemente in un brico eh che si usano per gli scarichi eh sono tubi che consentono di essere giuntati con delle guarnizioni abbastanza attenute, chiaramente non sopportano pressioni elevate per cui possiamo metterli dentro l'acqua a profondità basse. Ecco, un problema, il problema della torbidità è il problema della calibrazione, cioè questi strumenti chiaramente devono essere calibrati con attraverso delle unità di misura che siano confrontabili il più il più possibile eh diciamo unità di misura vicine a quelle standard. Oh ehm c'è da dire che esiste una unità di misura standard per la torbidità però è fatta attraverso una sostanza chimica ehm abbastanza difficile da reperire, abbastanza instabile. Eh allora per fare i primi esperimenti ho adottato un altro tipo di ehm di taratura, di di sostanza eh che praticamente è dell'argilla setacciata eh mischiata con dell'acqua per avere diverse concentrazioni, diverse eh diversi livelli di torbidità. Quindi con l'acqua e argilla si può fare una calibrazione abbastanza attendibile nel senso che eh quello che io poi trovo, cioè quello che io misuro con il mio strumento eh si riferisce a questo tipo di calibrazione. Quindi eh se devo confrontarla con un altro strumento eh devo chiaramente eh calibrare quest'altro strumento nello stesso modo. Ecco. Eh ho letto anche eh esperienze di persone abbastanza affidabili che che hanno usato, che si sono dovuti costruire strumenti per la misura della torbidità. Ho letto che un'altra un altro metodo può essere quello delle ehm dell'ossalato di calcio. L'ossalato di calcio adesso mi corregano i chimici, io non sono chimico. Eh è una sostanza che non è solubile nell'acqua, è un precipitato che si ottiene mescolando assieme due sostanze chimiche che sono il cloruro di calcio e l'acido ossalico. Quindi partendo da queste due soluzioni si può ottenere una soluzione torbida perché l'ossalato di calcio è appunto un precipitato eh torbida a a diverse eh gradazioni di torbidità. Ecco questo è qualcuno l'ha già fatto io lo devo provare. Approfitto anche per dire che tutte queste tecniche, queste procedure sono sempre in evoluzione. Per cui una un aspetto importante secondo me di tutto questo progetto è anche quello di eh provare soluzioni nuove eh per per costruirsi degli strumenti. Questo è abbastanza importante. Qui vediamo l'esempio di calibrazione fatto con l'argilla. Vedete la curva di sopra quella rossa con questi punti è la calibrazione del del sensore a luce diffusa mentre quello sotto i pallini blu sono del sensore a luce diretta. Eh diciamo le curve rispecchiano quello che uno si aspetta un po' in teoria. Eh una cosa importante da dire è questa che una volta ottenuta una curva interpolatrice come questa per esempio con un normale foglio Excel eh si può ricavare la formula della curva e inserirla, programmarla nel eh nella scheda del microcontrollore che sta nello strumento. Per cui poi lo strumento è in grado di darmi un valore di questa grandezza eh proprio grazie a questa formula che io ho trovato durante la calibrazione. Qui vediamo un sensore di conducibilità dell'acqua. La conducibilità dell'acqua come sapete è la proprietà che ha l'acqua di di far correre la corrente dentro. Eh si misura a basse tensioni ovviamente eh con delle procedure che eh devono ottenere conto del fatto che ehm se faccio passare una corrente dentro l'acqua questa mi può provocare elettrolisi, corrosione dei degli elettrodi e così via. Eh quindi ci sono diverse tecniche. Una tecnica molto semplice ed economica è quella di usare dei bulloni di acciaio inox come vedete qua. Acciaio inox perché ovviamente proprio per evitare l'ossidazione e ehm e sono collegati insieme eh con con un partitore di tensione. Questo per poter trasformare la corrente che passa nella soluzione acquosa trasformarla in un potenziale, in una differenza di potenziale e quindi essere misurata poi dalla nostra scheda microcontrollore. Come faccio a calibrare la conducibilità elettrica? Ovviamente la conducibilità elettrica non dipende solamente dagli ioni presenti nell'acqua quindi dalla concentrazione di sali e così via ma dipende anche dalla forma degli elettrodi, dalla loro distanza e così via. Quindi è necessaria una calibrazione per passare dalla misura di conducibilità che fa il mio strumento a una conducibilità specifica, cioè una conducibilità ehm che viene definita come quella tra due elettrodi di un centimetro quadro distanti un centimetro. Conducibilità specifica a una temperatura precisa che sono venti gradi o venticinque dipende un po' dalle definizioni e mh e perché la conducibilità ovviamente dipende dalla temperatura. Allora come mh un metodo semplice economico per farlo è quello di prendere un certo numero di acque minerali. L'acqua minerale per legge deve avere sull'etichetta un la misura di conducibilità specifica per cui ehm al supermercato si trovano comunemente acque minerali che vanno da conducibilità molto basse anche dell'ordine di qui 15 ehm Siemens su centimetro fino a ehm anche duemila sono delle acque eh che hanno molti sali disciolti. Quindi io ho tutta una gamma di soluzioni campione praticamente con cui posso calibrare il mio strumento eh sempre lo faccio attraverso un foglio elettronico che mi permette anche di trovare una curva interpolatrice dei miei dati per cui vedete qui sulle ascesse c'è la conducibilità del sensore in micro Siemens quella che proprio misuro e la sulle ordinate la conducibilità specifica in micro Siemens su centimetro. La curva interpolatrice eh che non è lineare in questo caso perché il metodo è il metodo partitore di tensione è una curva è un'equazione che io programmo all'interno del mio processore in modo tale che quando lui legge una certa conducibilità qui me la traduce subito in conducibilità specifica. Questo è anche il vantaggio di usare un'elettronica programmabile proprio perché io posso fargli fare i calcoli che voglio. Qui vediamo la cosa che dicevo prima cioè che la conducibilità dipende dalla temperatura per cui vediamo la curva rossa eh in pratica è una è la conducibilità di una soluzione eh sempre la stessa soluzione a temperature diverse. Vedete vado da zero gradi poco più di zero a a quasi venti gradi e in effetti il cambiamento è sostanzioso del sostanziale eh abbastanza evidente della conducibilità. Eh per questo però esistono in letteratura delle formule di eh compensazione cioè che mi dicono come varia la conducibilità in funzione della temperatura. Quindi applicando queste formule correttive io posso ottenere vedete le eh i punti che stanno su in alto quegli azzurri e quelli grigi mi danno praticamente la conducibilità corretta con la temperatura. Quindi è necessario nella misura di conducibilità fare anche una misura di temperatura dell'acqua. bene eh qui vediamo mh come possiamo trasmettere i dati a distanza. Allora come avevo accennato prima esiste una tecnologia di trasmissione radio eh che usa frequenze eh libere che si possono usare senza particolari permessi eh naturalmente rispettando certi limiti di potenza e di di eh di occupazione della frequenza. Ehm in effetti l'unico mezzo per trasmettere i dati via radio gli unici le uniche tecnologie scusate per trasmettere i dati via radio sono eh i cellulari quindi il sistema della rete GSM eh il wifi o questa tecnologia a cui accennavo prima che si chiama l'ora long range. I le prime due tecnologie cellulari e wifi sono molto dispendiose di energia quindi consumano le batterie e quindi non posso ehm adottarle in questi casi. Naturalmente eh poi il wifi ha una portata anche limitata. Non riesco a farlo arrivare a chilometri di distanza. eh e poi eh la rete dei cellulari, la tecnologia GSM richiede eh l'intervento di una rete esterna a pagamento eh come come tutti i cellulari. Ehm quindi sostanzialmente ehm che cosa si fa per usare la tecnologia Lora? Beh ci sono dei microcontrollori che sono delle schede elettroniche che hanno già a bordo su un transivero, un modulo radio che trasmette in grado di trasmettere questi dati attraverso questa tecnologia Lora. Quindi abbiamo il sensore che diciamo manda dei segnali elettrici al microcontrollore, il microcontrollore li trasforma in numeri come abbiamo visto attraverso le calibrazioni e così via e poi questi numeri in digitale vengono trasmessi via radio. Una scheda elettronica analoga a quella del trasmettitore viene messa nel ricevitore. Il ricevitore sta sempre in ascolto, può ricevere più nodi di trasmissione, non solo uno, specialmente se la frequenza di trasmissione dei dati è lenta, cioè un dato ogni qualche minuto. Ecco quindi io posso avere un ricevitore che monitorizza più nodi di trasmissione e ehm e questo ricevitore può fare diverse cose, può farmi visualizzare i dati su un display oppure eh molto più, in modo molto più utile, mandare i dati su internet, su una rete internet attraverso un collegamento wifi. Per cui se il ricevitore sta in un luogo ehm protetto, diciamo, accessibile con il wifi, io posso diciamo tenere il il mio sensore anche distante, diciamo uno o due chilometri come dicevo prima, ehm e a avere così eh superato il problema della trasmissione dei dati. Naturalmente il ricevitore ha bisogno di più energia, mentre il trasmettitore eh può essere alimentato solo a pile e durano molto, il ricevitore consuma un po' di più perché deve stare sempre in ascolto, quindi ehm ha bisogno di una sorgente di energia esterna, quindi una presa praticamente un alimentatore. Ehm ecco qui vedete alcune schede elettroniche che si usano per questi strumenti, quella in alto a sinistra, la più famosa, l'Arduino che tutti conoscono e poi esistono delle schede che vedete qui sotto che hanno il vantaggio di essere programmabili né più né meno come Arduino, cioè gli stessi programmi che faccio per questa scheda vanno bene per questa, per quest'altra. E in più hanno questa funzionalità di trasmettere i dati a distanza. E sono schede elettroniche che abbastanza piccole dal costo molto limitato. in questa slide ci sono alcune caratteristiche, vi faccio vedere uno strumento che sto mettendo appunto adesso e che mh diciamo è fatto per un per un altro progetto che però potrebbe essere benissimo usato anche per questo. È uno strumento vedete fatto da una scatola di di legno polistiro, scusate, legno compensato di pioppo, tagliato sempre al laser e che contiene un display che fa vedere appunto le misure e poi si possono collegare diversi sensori. In pratica qui è collegato un sensore di pH, una sonda di pH, una sonda di conducibilità elettrica e una sonda di temperatura, che appunto diceva necessaria per fare quella correzione. Questo strumento non è diciamo così chiuso su se stesso, ma ha la possibilità di cambiare il programma, quindi cambiare diverse funzionalità proprio grazie alla possibilità di programmazione della scheda e poi ha una batteria ricaricabile. E questo strumento lo sto preparando come kit, per cui da un punto di vista didattico è utile perché può diciamo uno studente può costruirselo praticamente senza dover affrontare tutti i problemi della saldatura dei fili, perché ci sono i vari connettori che permettono di collegare i fili, i vari moduli tra di loro, e poi può venire fornito in kit già con il programma caricato. Naturalmente poi se uno vuole andare avanti può sviluppare anche cose nuove con questo strumento. Poi un'ultima cosa, per costruire strumenti di misura non dimentichiamo che esiste tutta una gamma di, io li chiamo sensori colorimetrici, ma sono le cartine test. Le cartine test, le più comuni sono quelle del pH che conoscete tutti, poi ci sono cartine test per il cloro, per l'idrogeno solforato, credo, gli idrocarburi nell'acqua, i floruri e così via, l'ammoniaca, eccetera. Ne esiste tutto un universo di queste cartine. Il principio è sempre lo stesso, cioè in base alla concentrazione della sostanza per cui è sensibile la cartina, io ho delle colorazioni diverse. Allora, questi sono strumenti ovviamente manuali, nel senso che ci deve essere un operatore che poi legge il colore della cartina e lo confronta con una scala di colori. Ma può essere automatizzata questa funzione perché esistono dei sensori elettronici che misurano il colore, va bene, per cui questi possono essere usati per leggere il colore della cartina. Proprio in base a questo principio ho costruito questo che si chiama Asit Carousel, che è uno strumento che non fa altro che, diciamo, ha tante cartine in questa margherita che vedete qui e non fa altro che far gocciolare dell'acqua su ogni cartina, misura il colore e trasmette i dati di questo colore, cioè riconosce il colore, anzi in base al colore che riconosce attraverso la scala mi dice anche la concentrazione, il pH e così via. Funziona con una pompa che aspira l'acqua e la fa appunto gocciolare sulle cartine. Uno strumento abbastanza complesso ma non troppo, cioè alla portata di un autocostruttore di strumenti. Questo è uno strumento più semplice, sempre basato sulle cartine test, proprio perché esistono queste cartine sensibili al contenuto di idrocarburi nell'acqua, quindi gasolio per esempio, e sappiamo tutti che il Lambro ha subito questi scarichi di gasolio in passato, la cartina diventa blu in presenza di gasolio, gasolio o olio combustibile o petrolio, insomma vari tipi di idrocarburi. Mentre la cartina è idrorepellente nel caso in cui nell'acqua non ci siano idrocarburi. Quindi io posso usare questa cartina più volte finché l'acqua è pulita e nel momento in cui l'acqua ha del contenuto di gasolio che diventa blu, mi lancia un allarme. Ecco, il tutto è confezionato come vedete in questa foto, cioè c'è un galleggiante, una barchettina che contiene dentro un motorino che in pratica intinge la cartina nell'acqua sottostante, quindi sulla superficie dell'acqua dove si raduna il gasolio, e poi c'è un sensore di colore che legge il colore della cartina e mi trasmette il dato attraverso quel sistema Lora che dicevo prima. Questo è un qualcosa che io ho costruito, andrebbe sperimentato anche in campo, l'ho solo sperimentato a casa diciamo. Va bene, qui ci sono altri allestimenti di strumentazione per la misura della qualità dell'acqua. Qui ci sono dei sensori chimici che per esempio vengono bagnati dall'acqua solo a intervalli regolari, usando una bacinella che viene riempita da una pompa e che diciamo fa salire l'acqua fino ai sensori, dopodiché fatta la misura, la bacinella scarica l'acqua in modo che i sensori rimangano fuori e non si deteriorino. Qui vediamo un altro allestimento per campionare l'acqua a intervalli regolari. Questo era stato fatto per il depuratore di Bresso, per uno studio, un esperimento in collaborazione con la statale di chimica, l'istituto di chimica della statale di Milano e c'era il problema di analizzare dei campioni d'acqua presi durante la notte e durante il giorno. Quindi onde evitare di avere una persona lì ogni ora è stato costruito questo strumento che in pratica pompa una determinata quantità di acqua ogni ora, ogni due ore, a seconda di quello che uno vuole, a seconda del programma, in queste varie bottiglie di campionamento. Dopodiché le bottiglie vengono portate in laboratorio e analizzate. Ok, mi sembra di aver concluso qui. Se ci sono domande, senz'altro, sto qui apposta. Grazie per l'attenzione. Forse sono stato troppo tecnico, ma... No, direi che sei stato molto chiaro. Ci hai fatto vedere che forse possiamo ambire anche noi a costruire qualcosa, se adeguatamente formati. Senz'altro. Quindi è di buon auspicio per noi. Ecco, quindi... Io voglio... No, volevo chiedere... Tu le hai sperimentate recentemente in altri contesti, mi sembra, se vuoi dire. Sì, diciamo che per ora questi strumenti li ho usati in laboratorio, a casa e in situazioni diverse. secco. Non li ho mai usati in una campagna sperimentale. Va bene. La faremo partire in primavera. Va bene, grazie. Volevo ringraziare Paolo Bonelli per questa presentazione. È stato esauriente e sicuramente avremo modo, nella prima campagna, come diceva Carlo Carrettini un attimo fa, di sperimentarli sul campo e vedere i risultati. Ovviamente questa campagna sperimentale la faremo in maniera molto ancora abbastanza in forma di messa, però servirà per poter avere dei primi risultati, insomma, per poter proseguire poi in maniera ancora più approfondita. Adesso io, dopo questo intervento di tipo tecnico e specifico sulla costruzione dei sensori, avevamo messo in coda una serie di interventi che dovevano un po' rappresentare, dovevano un po' illustrare quelle che sono state alcune esperienze di monitoraggio, di tipologia diversa. Adesso avremo in sequenza, avremo il Molinari che ci racconterà un po' le sue esperienze sul monitoraggio dell'Ambro che da anni ormai stanno facendo, perché molto spesso sono stati coinvolti gli studenti su queste indagini analitiche. In cascata avremo la professoressa Tato, che invece ha, con l'Istituto Pezzani, ha lavorato su un progetto che forse ha avuto già modo di indicare qualche volta che era progettisti di domani, lo racconterà abbastanza in maniera dettagliata. E successivamente avremo il professore Andrea Rolando del Politecnico che ci illustrerà un'esperienza che sta conducendo, o che ha già condotto, adesso non lo so, con i suoi studenti di architettura. Quindi io passerei la parola, non so se parlerà la professoressa Colavitto, la professoressa... Sì, parleremo entrambe. Va bene, allora lasciamo la parola a voi, ci raccontate qualcosa su Molinari. Perfetto. Buonasera a tutti. Io sono la professoressa Colavitto dell'Istituto Tecnico Ettore Molinari. C'è già sicuramente qualcuno di voi che lo conosce perché l'ha frequentato. L'Istituto Tecnico nasce nel 1940 proprio con l'articolazione proprio di chimica, nasce proprio come istituto chimico. Poi successivamente l'articolazione prevede anche informatica, poi tuttora diciamo che la chimica che una volta veniva chiamata chimico industriale è stata suddivisa in chimica dei materiali, che è un po' come il vecchio chimico industriale, e nell'altro indirizzo che è il biotecnologo ambientale. Una volta, essendo proprio unico l'indirizzo, che era il chimico, quello che avete frequentato voi mi sembra, prevedeva appunto l'analisi delle acque dell'ambro. Ora se ne occupa proprio la parte del biotecnologo ambientale, perché nell'ultimo anno delle superiori, proprio nel quinto anno, la classe proprio come didattica prevede le analisi riguardanti proprio la parte ambientale, cioè l'aria, l'acqua e il terreno. E per quanto riguarda l'acqua, viene prevista proprio da anni le analisi dell'ambro. In sostanza viene fatto un campionamento con i ragazzi, vengono portati quindi tutti fuori, tutta la classe si fa quindi questa gita, perché considerando che il parco Lambre è proprio dietro l'istituto, si fa un unico campionamento, si hanno delle analisi che vengono fatti in situ, e analisi che vengono poi svolte in laboratorio. I parametri a cui noi ci riferiamo sono parametri di tipo chimico-fisico e anche biologici, quindi è un'analisi diciamo trasversale tra diverse materie. Quello di cui io mi occupo è la parte appunto analitico-strumentale, mentre la mia collega professoressa Pilia si occupa della parte appunto biologica e microbiologica. Per quanto riguarda le analisi che facciamo appunto chimico-fisiche, strumentali e da un punto di vista appunto analitico, sono alcune, lo sentite prima appunto parlare dal signor Bonelli, e l'ossigeno disciolto, che però noi la consideriamo più come una titolazione potenziale, che viene fatta tipo iodometrica in laboratorio direttamente. Il pH viene fatto, ad esempio, viene svolto sia in situ con un pH-metro da campo inizialmente, e poi viene comunque fatta una misura in laboratorio con dei potenziometri, dei pH-metri potenziometri un po' più precisi. Si fa poi anche la parte, gli altri parametri sono la turbidità, i solidi totali, e le analisi vengono fatte sui nitrati anche e i fosfati. Queste ultime per via spettrofotometrica. Questi sette parametri iniziali, i sette parametri sono appunto da un punto di vista chimico, mentre gli ultimi che poi vi parlerà appunto la professoressa Pilias, sono da un punto di vista biologico e microbiologico. Tutti insieme vengono utilizzati per poi dare una qualità, un indice di qualità del fiume, attraverso appunto un protocollo che viene utilizzato da noi da anni, che è appunto il protocollo Green. e lascerei, diciamo, la parola alla mia collega, che vi parla più da un punto di vista biologico, le altre analisi che appunto vengono svolte. Buonasera a tutti, sono appunto la professoressa Elisabetta Pilias, mi occupo delle analisi microbiologiche e biologiche. Diciamo che sostanzialmente noi facciamo due analisi, che sono il BOD, che è la richiesta di ossigeno appunto da parte dei microorganismi, e poi la ricerca di agenti patogeni fecali. La prima semplicemente appunto serve per verificare se ci sono dei microorganismi che richiedono appunto ossigeno e viene fatta con, vengono fatti appunto dei prelievi sterili, in ambiente sterile, in ambiente sterile, scusatemi, e poi vengono messi, vengono appunto analizzati e poi vengono tenuti al buio per cinque giorni, a una temperatura di 20 gradi, per appunto vedere se questi microorganismi sono sopravvissuti. Sostanzialmente è una determinazione, diciamo, che appunto richiede questo tipo di incubazione e sono tre le classi di sostanze che vengono rilevate, sono appunto i composti organici, che appunto hanno bisogno di ossigeno per l'attività metaboliche, dei composti ossidabili all'azoto e delle sostanze inorganiche, banalmente come solfuri e solfati. Mentre invece per quanto riguarda appunto gli agenti patogeni, in particolar modo noi cerchiamo i colibatteri, che sono quelli appunto i coliformi, servono appunto per individuare che non ci siano delle contaminazioni la cui presenza appunto è indice di patogeni, quindi sono banalmente i coliformi totali, quelli fecali e anche gli streptococchi appunto, vengono fatti appunto delle microfiltrazioni all'acqua su delle membrane che poi vengono coltivate su delle capsule petri in agar e messe in stufa e poi insomma una volta che poi appunto cresce la colonia vengono contati e vengono espressi poi in grammi su millilitri di acqua. Ecco, diciamo che in grandi linee noi facciamo questo dal punto di vista microbiologico. ecco, noi avremmo finito la nostra presentazione seppur breve, qualsiasi domande poi siamo comunque ancora collegate fino alle sette perché poi abbiamo un'altra riunione. Va bene, le lasciamo dopo le domande magari. Grazie. Vi ringrazio, ringraziamo voi per la partecipazione e allora adesso passiamo al secondo esempio da parte della professoressa Tato che penso abbia da condividere lo schermo anche lei. Esatto, vediamo perché io non sono pratica con Zoom che cosa succede. Allora, devo condividere lo schermo e eccolo qua. Ok, si vede? Sì, si vede nero però comunque si vede... Ecco, ci siamo. Sì, è arrivato. Bene, va bene, perfetto. Allora, devo attivare la presentazione. Allora, facciamolo di qua. Ok, ok, ci sono. Allora, buongiorno e buonasera ormai, è quasi buio completo. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare l'osservatorio che ho appunto nella persona del presidente Gianni Pampurini per avermi invitato a questo webinar. Io vi devo dire che questi eventi che organizza l'osservatorio sono sempre per me un'occasione proprio di riflessione, di confronto sul lavoro che faccio. Io veramente da ogni volta che ho partecipato a questi eventi io ho ricavato tantissimi spunti nuovi proprio per lavorare. Allora, il filo conduttore sono strumenti di misura autocostruiti e esempi di monitoraggio civico. Io sono una docente di scuola media, quindi di matematica e scienze. lavoro con ragazzi dagli undici e tredici anni. È un periodo di crescita delicato, però io devo dire che è anche un periodo estremamente stimolante, appassionante, perché i ragazzi a questa età sono ancora molto malleabili. ogni cosa che facciamo, ogni rapporto che estauriamo sono cose che restano e con facilità riusciamo a aprire nuovi orizzonti e dare nuove prospettive. Quindi da questo punto di vista si hanno moltissime soddisfazioni. Io, sul titolo, quello che mi ha fatto più pensare è appunto questa questione del monitoraggio civico. Quindi volevo soffermarmi sul significato dal punto di vista educativo in una scuola media e naturalmente poi nel concreto che cosa si fa per questo. Allora, il monitoraggio civico presuppone sicuramente una cittadinanza attiva, no? E nonostante, diciamo, un concetto di cittadinanza oggi estremamente complesso, articolato, però per cittadinanza attiva possiamo intendere la partecipazione consapevole, responsabile e interculturale. dei ragazzi, quindi noi dobbiamo formare i nuovi cittadini a questi tipi di cose per che possano fare un monitoraggio civico responsabile, no? Peraltro, vabbè, questa cittadinanza attiva a livello di scuola, a livello di società è un ingrediente fondamentale per la coesione sociale. Per poter, diciamo, agire proprio come cittadini funzionali dobbiamo avere delle competenze, delle competenze di vario tipo. Oggi più che mai sono multidisciplinari e trasversali. E per stimolare questo tipo di cose, a livello di scuola, soprattutto a livello di didattica, ci troviamo a avere a che fare con un tipo di didattica diversa rispetto a quella che si faceva un po' di anni fa. Cioè noi dobbiamo lavorare per passare queste competenze con quelli che vengono chiamati compiti di realtà, cioè tipi di lavori che per questi ragazzi che non sono grandi ma non sono neanche piccoli, lavori, diciamo, che siano situazioni che riguardano il loro quotidiano e la loro realtà. Allora, io prima di tutto volevo su questo fare un accenno proprio velocissimo a quello che è attualmente il quadro del riferimento per le scuole, cioè i due documenti cardine per la scuola che sono e le raccomandazioni dell'Unione Europea su dove hanno individuato nell'ultimo aggiornamento, il 2018, quali sono le otto competenze chiavi. Che sono competenze che vanno acquisite lungo l'arco della vita. Però nel periodo in cui, diciamo, che riguarda sia la scuola elementare, media e liceo, è il periodo, diciamo, di impostazione di queste competenze. In particolare una di quelle, anche se ovviamente sono tutte molto interconnesse, è la competenza in materia di cittadinanza. L'altro documento importante è l'agenda 2030, cioè quel programma programma delle Nazioni Unite che è articolato in diciassette obiettivi pone le basi per raggiungere il traguardo della sostenibilità. E tra questi obiettivi, tra questi diciassette traguardi, io ne avevo individuato il fatto di fornire un'educazione di qualità accessibile a tutti, di formare i cittadini del futuro e poi ci sono diversi obiettivi che riguardano appunto la protezione, il ripristino, la promozione sostenibile delle risorse. Con questi due ingredienti di competenze e valore fondati sulla sostenibilità dobbiamo formare i cittadini del futuro, quindi questi ragazzi. In concreto che cosa facciamo a scuola? Noi ci confrontiamo appunto con questi compiti di realtà, cioè che cosa li facciamo fare che passino loro come esperienza in prima persona di competenze trasversali, di responsabilità, di impegno, di azione. Beh, noi in questi ultimi due anni abbiamo, diciamo, nell'Istituto Comprensivo Pezzani abbiamo attivato due progetti. Uno è il Green Martinengo e è un progetto che si è protato per questi anni fino a che ci ha fatto visita al Covid-19 e che ha cominciato come un progetto, perché diciamo la scuola immersa in un giardino parco veramente bellissimo e quindi è iniziato con degli obiettivi abbastanza contenuti, cioè era portare fuori i ragazzi, farli fare un orto, lavorare la terra, sperimentare in prima persona e ha funzionato molto bene, per cui dopo il corso di due anni è diventato un progetto per l'aumento della via diversità. In quel caso, anche per una questione di sicurezza, abbiamo provato in un ambiente ristretto, proprio intorno alla scuola. Il secondo progetto che abbiamo fatto in collaborazione col Politecnico di Milano è questo, i progettisti di domani. Quindi in questo progetto secondo me ci sono due punti importantissimi. Uno che è il rapporto col territorio, cioè con i ragazzi siamo usciti fuori dalla scuola e li abbiamo messo davanti a un obiettivo che devo dire che è stato vecchio ambizioso, che è quello di seguire proprio un percorso di progettazione e in particolare era la progettazione di una pista ciclabile che collegassi la scuola con il parco trapezio di Santa Giulia. Quindi per quello che riguarda Gurin Martinengo, noi siamo partiti, come dicevo, dall'orto della scuola. A partire da lì abbiamo parlato di biodiversità e abbiamo fatto una piantumazione di fiori impolinatrici collegandoci con l'impolinami di Milano e infine abbiamo fatto un laboratorio faregnameria e hanno costruito delle bad box. In questo giardino ci sono delle grandissime piante per cui poi sono stati posizionate queste bad box. I progettisti di domani appunto è stato un progetto di progettazione partecipata. La integrazione col territorio, cioè i ragazzi escono e in qualche modo esplorano il territorio. Quali sono stati gli obiettivi? Intanto una sensibilizzazione dei ragazzi riguardo al loro territorio. Poi stimolare lo spirito di iniziativa. Sensibilizzarli e renderli consapevoli sul fatto che loro sono parte del territorio, sono parte dell'ambiente e che le loro azioni possono avere delle conseguenze. Quindi responsabilizzarli su questi aspetti. Questo lo salto. Le fasi del lavoro e progettazione sono stati l'identificazione del problema, la mappatura dello stato dei fatti e dei bisogni, la progettazione vera e propria, poi una valutazione delle proposte, cioè loro hanno lavorato in gruppo e ogni gruppo ha fatto una proposta e poi li abbiamo discusi tutti insieme. Cioè un gruppo presentava la sua proposta e gli altri intervenivano in modo costruttivo, no? Chiedendo, ponendo delle domande e infine una presentazione. Nella fasi identificazione eh all'inizio eh abbiamo avuto due interventi molto interessanti di due professori e il Politecnico, tra cui il professor Boscacci che è presente, dove hanno proprio presentato il territorio su cui andavamo poi a intervenire e quindi hanno avuto una lezione teorica, hanno lavorato con mappe. Dopodiché abbiamo fatto proprio un rilievo, cioè siamo usciti con i ragazzi, con le macchine fotografiche piuttosto che cellulari a individuare quali secondo loro erano i punti critici o diciamo non non solo punti critici ma anche i punti che secondo loro potevano comunque funzionare. Loro hanno prodotto delle in questo caso delle dei cartelloni dove eh appunto hanno scelto le foto e hanno individuato lo stato di fatto, le cose che secondo loro non funzionavano, percorsi e quant'altro e vabbè la fase di progettazione eh io purtroppo non ho delle foto. Loro nella fase di progettazione hanno avuto un primo ehm un primo lavoro di ricerca di soluzioni. Cioè non li ho lasciato completamente alla loro creatività ma mh volevo anche che mettessero i piedi per terra. Dovete pensare comunque i ragazzini a questa età sono e passano molte ore davanti a videogiochi molto fantasiosi per cui poi quella fantasia spesso viene fuori nel lavoro. Per cui prima hanno fatto un lavoro ricerca cioè cosa esiste riguardo a queste cose no? Quindi in internet hanno cercato, hanno scaricato, hanno visto delle soluzioni possibili. Dopodiché sulla base di quello hanno poi lavorato delle proposte e eh sono state presentate mh qua si vede una foto a un evento che eh è stato un evento proprio sul territorio. Un evento organizzato anche dal dall'osservatorio in cui la scuola aveva il suo gazebo dove presentava i lavori tra i cui questo eh lavoro di progettazione. Ehm sempre su cittadinanza attiva e territorio cioè la scuola ehm diciamo non è l'unica diciamo ovviamente la cittadinanza si impara ma non è solo la scuola non si impara solo tramite la scuola e neanche solo tramite eh diciamo così del della formazione istituzionale no? O dei metodi di tipo formale ma è un 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 apprendimento che viene lungo tutta la vita perché perché la società in cambiamento sappiamo che questo cambiamento ogni volta è più veloce per cui questo concetto di cittadinanza è un concetto estremamente dinamico ehm quello che a noi interessava anche per il tipo di utenza e il tipo di eh localizzazione della scuola era di integrare proprio la comunità scolastica nel territorio quindi c'è stata la biciclettata nell'Ambro nel scusate nel nel parco della Vettabia eh che ha avuto una grande partecipazione e che molti eh molte famiglie hanno conosciuto nonostante vivendo in zona conosciuto la possibilità di soffrire proprio della risorsa di questo parco e poi anche come integrazione del territorio la scuola organizzato dei convegni proprio aperti alla cittadinanza e infine come vi accenavo questa partecipazione sempre nel parco della Vettabia nel eh in un recinto del depuratore giusto eh in cui si presentavano appunto si è fatto un'attività con un'attività pratica e si presentavano per di più i lavori che sono sono stati fatti a scuola. In sintesi rispetto a questa ehm diciamo a questo invito è chiaro che la scuola è un elemento trainante per quanto riguarda l'esercizio della cittadinanza ehm ho dato le caratteristiche sociali quello che è sicuramente necessario visto la realtà interconesa appunto questa rete di istituzioni e di agenzie educative devono sicuramente collaborare e eh lavorare in rete per riuscire a raggiungere insomma eh questi questi traguardi ehm sono sicuramente necessarie per eh per eh diciamo per i ragazzi per l'educazione dei ragazzi a diventare cittadini funzionali eh l'idea di collegialità di condivisione di di cooperazione di ricerca di formazione di riflessione di spirito critico ehm su questo punto io devo dire che il lavoro eh siamo riusciti a fare con l'osservatorio eh rappresenta molto bene questi tipi di 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 sogni nel senso che eh l'osservatorio proprio fa rete perché raggruppa una serie di associazioni ci fa conoscere ci fa collaborare io devo dire che dal punto di vista almeno della nostra realtà di scuola media è una risorsa molto importante io non ho altro da dire vi ringrazio e diciamo un po' provocatoriamente come dico ai ragazzi a riabbiarciarvi ha fatto una uno schema del della nostra attuale situazione cioè questo è il rapporto che noi abbiamo per oggi per ora grazie a te Liliana grazie mi ha fatto molto piacere rivedere tutte quelle immagini di cose che abbiamo fatto gli anni scorsi quando ancora non c'era il problema di guardarsi allo schermo ma ci si poteva incontrare direttamente esatto ecco diciamo che eh le esperienze fatte sono state molto 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 belle io di progetti per quello che dicevo all'inizio eh ogni ogni incontro mi vengono degli spunti per cui diciamo sogni nel cassetto ne ho tanti deve scomparire però adesso questo nostro nuovo ospite indesiderato per poter andare avanti vabbè però potrei partecipare con i tuoi ragazzi al futuro monitoraggio che avvieremo sicuramente per la zona dell'Ambro visto che oramai sei abituata a fare queste cose sì sì sicuramente volentieri ecco adesso c'è un'ulteriore esperienza e passo la parola subito al professor Andrea Rolando che ci parlerà dell'esperienza che fa lui con i suoi ragazzi al Politecnico di Architettura a Facoltà di Architettura eh non ti sentiamo Andrea non ti sentiamo hai il microfono disattivato Andrea deve riattivare l'audio Andrea noi sentiamo ecco così doverte sentire ecco scusate ma c'era avevo le cuffie che a volte vanno in conflitto eh bene grazie grazie davvero per l'invito e anche grazie a chi mi ha preceduto che ha davvero raccontato delle esperienze che sono davvero molto significative sia dal punto di vista della della sostanza di quanto è stato fatto ma forse direi anche soprattutto per quanto riguarda la possibilità di coinvolgere gli abitanti del territorio e renderli sempre più consapevoli della ricchezza di quanto di quanto sta davvero vicino alla porta di casa che è una una cosa davvero eh fondamentale che dobbiamo tutti imparare che forse il covid ci ha un po' costretto a a ad apprezzare e l'altra questione è legata all'importanza dell'educazione le parole di Liliana Tato erano davvero perfette per dei ragazzi delle scuole medie sono convinto che siano perfette per i ragazzi di tutte le scuole bisogna davvero che questo modo di rendere l'insegnamento di qualunque materia io credo legato alla ai luoghi che noi possiamo eh vedere che ci possono insegnare delle cose quella che si chiama la conoscenza situata è davvero una una un approccio alla didattica che deve essere in ogni modo portato nelle nelle nostre scuole cercando di di far sì che i ragazzi escano dalle aule oggi forse siamo persino obbligati ad uscire dalle aule per questioni di eh di sicurezza e che trovino fuori dalle aule l'occasione di imparare tutto dalla matematica alla letteratura dall'arte alla alla natura io credo alla fisica alla chimica alla geografia per carità ancora di più eh lo si può fare lo si può fare davvero nel nel mondo che che sta fuori anche delle delle scuole ehm per tornare a quello che vorrei presentare che riguarda il lavoro che facciamo con gli studenti al Politecnico nel nel corso di eh di urbanistica ehm vorrei dire che eh noi insistiamo molto sull'esperienza diretta del dello spazio che sta intorno al 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 progetto e questo lo diciamo anche usando una 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 frase che è quella che 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 io credo sia molto importante tenere presente cioè che l'urbanistica che è una materia tecnica di progettazione ma è una materia che si fa molto con i piedi muovendosi frequentando il territorio e imparando attraverso il movimento tutto quello che il territorio ci può in ci può insegnare e il covid ha dato appunto questa opportunità eh di eh vedere meglio lo spazio che ci circonda e abbiamo cercato pur nella difficoltà della didattica che eh dobbiamo in qualche modo risolvere perché purtroppo non abbiamo potuto accompagnare i nostri studenti nei sopralluoghi non abbiamo potuto imparare insieme a loro quelli che erano i caratteri del dei luoghi che avevamo scelto e quest'anno il luogo che avevamo scelto come oggetto di studio è proprio il lambro e quindi abbiamo dovuto inventare un po' una modalità di eh di sopralluogo di raccolta di informazioni e di eh analisi proprio dei degli elementi di pregio degli elementi anche negativi delle opportunità di progetto delle difficoltà nell'attuazione di questo progetto ehm assegnando loro un un compito allora questo compito lo abbiamo inquadrato in una serie di azioni che sono state citate da eh da chi mi ha preceduto eh l'idea di ad esempio creare dei percorsi che connettano meglio il fiume Lambro con la città è un'attività che sviluppiamo nell'ambito dell'osservatorio Iscapes del Politecnico di Milano eh dove lavoro con Flavio Boscacci che è qua presente e con Alessandro Scandizio che tra l'altro ha partecipato anche all'attività di formazione insieme a a Flavio Boscacci nella scuola con con Liliana Tato. Da qualche anno cerchiamo appunto di esplorare questo territorio e di capire meglio come lo possiamo connettere alla alla città e per fare questo quest'anno abbiamo assegnato ai nostri studenti il compito di eh analizzare di esplorare e di conoscere meglio quello che è l'itinerario che sostanzialmente è stato sperimentato lo scorso anno con la pedalata sull'Ambro e a partire da questo itinerario che avevamo in qualche modo già conosciuto esplorato e definito anche meglio in quanto ci consente di vedere molti luoghi anche sconosciuti a molti che stanno lungo il fiume ecco definendo questo itinerario abbiamo anche eh dato al ai nostri studenti il compito di esplorarlo e di tracciarlo attraverso l'uso di strumenti gps che anche molto semplici che tutti hanno a disposizione sul proprio telefonino quindi i ragazzi sono stati invitati a ehm a esplorare questo questo percorso e qui vediamo la traccia che noi abbiamo assegnato loro che è quella della prima slide che vedete adesso la faccio ricomparire ecco questa diciamo la traccia teorica del percorso ma poi i ragazzi hanno mappato a volte anche discostandosi un poco da questa traccia perché l'obiettivo era proprio quello di partire da un suggerimento ma poi di esplorare il territorio anche cercando di eh in qualche modo forzare quello che era il nostro suggerimento e di restituire e di condividere soprattutto con con il resto della classe quello che era il risultato di questa esplorazione quindi qui vedete una sorta di mappa che riassume le tracce gps che gli studenti hanno tracciato usando davvero il proprio corpo come se fosse una sorta di strumento di scrittura che poi è visibile nelle 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 planimetrie sono insomma sono queste planimetrie raccolgono il l'esito di questi sopralluoghi ma naturalmente il sopralluogo non si è limitato al tracciamento del percorso e anche a come dire a sviluppare degli studenti il senso di relazione tra una pratica che si fa in maniera molto fisica cioè il camminare e la visibilità di questa traccia che invece viene resa accessibile attraverso la cartografia quindi c'è questa doppia modalità no del camminare dentro al territorio ma di vedere come quella camminata ha una dimensione territoriale più ampia che è un aspetto molto importante per chi si occupa di territorio poter vedere come le proprie azioni hanno un effetto su un territorio più ampio quindi non è più soltanto il proprio intorno che è rilevante ma è il proprio intorno rispetto ad un ambito allargato rispetto alla città dove vivono altre persone dove ci sono molteplici attività e questa cosa è stata poi anche sviluppata ulteriormente attraverso una considera partendo da una considerazione cioè tutti abbiamo a disposizione il telefono tutti utilizziamo google earth tutti abbiamo la possibilità di esplorare attraverso una particolarità di google earth che street view il mondo intero noi sappiamo che depositando quell'omino che si vede nelle mappe di google earth sul terreno facendolo cadere dal satellite al barciapiede noi vediamo effettivamente casa nostra ma vediamo anche luoghi dove non siamo mai stati o luoghi dove siamo stati da bambine non siamo più ritornati è uno strumento strepitoso veramente straordinario però sappiamo anche che questo strumento si basa soprattutto rende visibili gli spazi che sono raggiungibili attraverso l'automobile ci sono anche delle parti di google earth che vengono mappate lungo percorsi che si possono fare a piedi ci sono anche mappe della luna che si possono vedere per luoghi che sono del tutto inaccessibili ma quello che abbiamo cercato di fare di utilizzare uno strumento che consente a tutti di mappare anche un percorso pedonale questo strumento è mappillari che è disponibile sui cellulari è un applicativo che si può scaricare e consente di registrare una traccia e di caricare e rendere disponibile ad altri utenti le fotografie che sono state scattate lungo quel percorso quindi in maniera automatica lo strumento registra con un passo prefissato le immagini e poi rende quelle immagini accessibili quindi l'esercizio era interessante perché faceva sì che gli studenti non fossero soltanto dei dei rilevatori ma fossero anche in grado di condividere le immagini che registravano ecco qui si vedono alcune schermate del dello strumento si vede qual è il percorso che è stato fatto dagli studenti lungo il lambro in questo caso e dopo di che sono disponibili le immagini cioè quando uno utilizza lo strumento dopo aver fatto il rilievo e questo è possibile per chiunque anche io se adesso o voi se andate sullo strumento mapilleri potete vedere le tracce e le fotografie che sono state registrate dagli studenti del corso di rappresentazione della città e del territorio che teniamo tra l'altro insieme ancora ad alessandro scandiffio ma anche alberto giacopelli augusto napoli che forse sono presenti in questo questo webinar che cose restituiscono gli studenti oltre a questa traccia che diciamo condivisa attraverso l'applicativo mapillari restituiscono anche una sorta di report di immagini organizzate secondo le quattro categorie solite delle analisi SWOT cioè gli elementi di forza gli elementi di debolezza gli elementi che sono opportunità e quelle che sono minacce e quindi da un punto di vista forse più tecnico in quanto sono studenti più maturi ma comunque sono studenti del primo anno di urbanistica quindi è un po il loro primo esercizio di di rilievo di rappresentazione anche di individuazione degli elementi critici della città fatto però come ripeto a partire da una propria esperienza personale in questo senso sviluppano poi il discorso che anche i ragazzi di Eliana Tato alle scuole medie hanno fatto certo con una consapevolezza con una maturità maggiore e con degli strumenti anche operativi più finalizzati al progetto vero dell'urbanistica però sostanzialmente quello che voglio dire che anche il lavoro fatto alle scuole medie dovrebbe essere ripetuto negli anni di liceo e forse dovrebbe essere anticipato alle scuole elementari e vorrei dire persino nelle scuole nelle scuole dell'infanzia dovrebbe essere un modo di rendere le persone consapevoli del dello spazio che li circonda perché alla fine è vero l'urbanistica è una materia scientifica ma in qualche modo riguarda davvero tutte le persone che abitano la città e non solo e quindi è un esercizio davvero molto importante questo e gli studenti devo dire lo apprezzano si accorgono di come anche l'esperienza quotidiana può diventare stimolo per il progetto urbanistico vero e proprio quindi qui vedete alcune immagini fatte lungo il percorso gli elementi di pericolo gli elementi di forza magari intanto visti con gli occhi di ciascuno ciascuno studente dal proprio punto di vista vede delle opportunità vede delle minacce vede degli elementi di valore e questo stiamo appunto condividendolo all'interno della classe ma l'obiettivo è quello anche di farne proprio un metodo di analisi della città e del territorio con quale minacce sono le automobili parcheggiate sui marciapiedi le opportunità sono gli spazi esistenti che magari possono essere ancora migliorati i punti di debolezza sicuramente la mancanza fisica di un marciapiede dove poter camminare mentre l'elemento di forza magari è un viale semplicemente alberato quindi anche un elemento così semplice come l'albero aggiunge qualità allo spazio qui vedete altre interpretazioni fatte dai ragazzi le foto sono tutte georiferite quindi sono è possibile fare una mappa e restituirne poi una una un prodotto che anche è anche presentabile condividi condivisibile facilmente ecco qui vedete altre altre immagini che restituiscono ecco qual è l'obiettivo di questo lavoro che ovviamente serve al primo anno per capire quali sono gli elementi di forza e come si può orientare un'azione di mappatura di rilievo che sia finalizzata al progetto però questo conoscenza del territorio serve anche per stabilire delle degli indici che non solo degli indici di qualità tecnica chimica fisica dell'aria o dell'acqua come peraltro è fondamentale poter avere ma anche degli indici di qualità spaziale degli indici di qualità del paesaggio che noi attraversiamo allora abbiamo in corso un'attività che è quella con cui vorrei chiudere la mia breve presentazione che è proprio finalizzata ad individuare lungo il tracciato dell'ambro degli itinerari magari con delle alternative cercando di valutare quali sono gli elementi di pregio del paesaggio che possono rendere quel percorso più o meno gradevole allora abbiamo fatto un ragionamento partendo da percorsi e valutando anche delle alternative che stabilisce proprio un indice quando il percorso per dire è fiancheggiato da un filare di alberi oppure corre a fianco di un corso d'acqua oppure non ci sono automobili o siamo in corrispondenza di un paesaggio particolarmente aperto inseriamo questi elementi oggettivi del paesaggio in modo da dare una valutazione numerica e quindi in questo caso ad esempio le aree più i percorsi nelle parti più di colore più scuro sono tra virgolette fatemi dire più belli più gradevoli hanno maggiori elementi di pregio e le parti più chiare hanno invece degli elementi di criticità oppure hanno minore presenza di elementi di pregio ecco in questo modo possiamo attribuire anche dei valori che possono servire per valutare delle alternative tra percorsi oppure l'altro ragionamento sul quale siamo impegnati è quello di raccogliere le immagini attraverso google street view oppure attraverso lo strumento che vi ho illustrato ma pillari ma poi fare un ragionamento che è possibile attraverso le tecniche di machine learning che fanno una sorta di segmentazione delle immagini cioè riconoscono in maniera automatica alcuni elementi visibili sulle immagini il cielo gli alberi l'asfalto sono riconosciuti in modo automatico quindi si può fare una lettura che dia una percentuale di elementi presenti nella fotografia e quindi sulla base di questa percentuale leggibile attraverso questo procedimento di segmentazione grafica delle immagini riusciamo anche a valutare quando un'immagine interpretata positivamente effettivamente ha degli elementi che ci fanno riconoscere il valore di questa fatemi dire bellezza e quando invece ci sono altri elementi che possono avere un effetto negativo sul sugli utenti quindi il lavoro che stiamo facendo adesso è quello di affinare questi indici di qualità spaziale fatti sulla base degli elementi geografici come sono quelli che vedete in questa immagine oppure fatta sulla base di immagini che noi registriamo attraverso smartphone oppure attraverso quelli che sono gli strumenti disponibili disponibili in rete ecco quindi con questo io chiuderei qui si vede una valutazione diciamo in cui abbiamo cercato anche un'immagine che restituisce ma non entrare nel dettaglio di questo sostanzialmente confronta quello che è l'indice di qualità spaziale fatto sulla base degli elementi fisici oggettivi cioè quelli che sono entità geografiche il viare di alberi il la presenza di una pista ciclabile piuttosto che di un corso d'acqua e invece l'interpretazione delle immagini fatta con l'altra tecnica in cui vediamo delle immagini scelte volutamente come di ambiente gradevole positivo oppure scelte come elementi invece negativi e quindi vediamo se il metodo di segmentazione delle immagini da un valore numerico che è confrontabile con quello invece degli indici realizzati attraverso l'utilizzo di sostanzialmente di strumenti di analisi geografica quelli che si chiamano i gis geographic information system dei sistemi che mettono sulla base geografica dei dati e delle entità geometriche come possono essere ad esempio i filari di alberi che citavo prima quindi questa è un po la sintesi che ho fatto vi chiedo scusa un po rapidamente ma spero che sia stata comprensibile altrimenti sono disponibile anche per qualche domanda che riguarda un po le attività fatte con con gli studenti e un po le attività che abbiamo in corso di sviluppo come attività di ricerca insieme al professor boscaccia da l'essandro scandizio e agli altri colleghi del del politecnico all'osservatorio escapes quindi se non avete domande o se avete delle curiosità sono a disposizione altrimenti lascio il lo schermo ancora forse a gianni pampurini per continuare il nostro pomeriggio vi ringrazio no grazie a te andrea è un'esperienza interessantissima e questo è una forma è già una forma di monitoraggio civico molto importante perché coinvolge parecchi studenti e si sono ricavati parecchi dati che possono essere di utilità quindi l'auspicio è che i tuoi studenti possano ancora collaborare su queste tematiche quando faremo quando avvieremo tutta la nostra parte di monitoraggio che intendiamo fare sono ecco questo è stato un anno purtroppo per via del covid è un po difficile da gestire però abbiamo potuto intanto ragionare dal punto di vista metodologico per capire meglio quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati comunque una classe di circa 100 studenti quindi restituiscono in ogni caso un punto di vista abbastanza articolato purtroppo non tutti gli studenti sono a milano alcuni non riescono a fare il sopralluogo non sono riusciti a fare il sopralluogo nelle settimane scorse quindi abbiamo dovuto rinunciare a una parte del nostro campione di studenti però detto questo metodologicamente credo anch'io che sia un modo sicuramente interessante di lavorare e forse anche di condividere le informazioni ho visto che c'è la richiesta di un intervento direi gianni di far parlare tu fai tu carlo fai tu no no ho visto che c'è una richiesta di intervento invito ad intervenire non ho visto il nome ma sono marilena vi mercati e volevo dire che seguo da un po tutte le iniziative dell'osservatorio che trovo molto interessanti e poiché insieme a gianni pampurini come come green come green scusate abbiamo presentato un progetto alla regione che si chiama help help come in inglese che mette insieme health environment cioè è un percorso di apprendimento che coinvolge studenti di scuola sia media inferiore che superiore e si muove secondo proprio due direttrici la prima è quella di considerare la salute nell'eccezione della dell'organizzazione mondiale della santità della sanità cioè come benessere fisico psichico e sociale la seconda è quella di considerare l'ambiente nel nostro caso un territorio specifico perché questo progetto lo facciamo nel municipio otto quindi all'interno del municipio otto vederlo come contesto di vita in cui la sostenibilità deve diventare fondamentale allora il progetto abbraccia non solo l'ambito ambientale che è quello che accomuna no il l'ambro lucente ma anche un ambito culturale e e sociale perché fanno parte del partenariato sia associazioni di tipo culturale che associazioni che si occupano del sociale lo scopo è quello proprio di eh come dire prendere l'idea che avete avuto voi di un monitoraggio civico che abbraccia non soltanto l'aspetto ambientale e quindi lo stato di salute dei parchi del verde che c'è lì o delle acque ma anche quello sociale culturale ecco questo che è un progetto che realizzeremo partirà eh in gennaio perché è stato approvato e finanziato dalla regione ehm potrebbe essere poi magari replicato con lo con le dovute eh modifiche del caso anche in altri municipi della città di Milano perché l'obiettivo è proprio quello di eh fare in modo che gli studenti imparino a riconoscere nel proprio territorio i beni comuni i beni comuni intesi proprio nell'accezione più ampia che non sono solo le risorse ambientali ma anche le risorse sociali presenti sul territorio e culturali e trovare il modo di valorizzarle eh acquisire capacità di lettura di analisi e di progettualità verso il territorio arrivando anche perché no a formulare proposte no è interessante il progetto eh progettisti di domani quindi valorizzare anche le competenze dei giovani ma che possono come dire contribuire a migliorare quella che è la realtà eh di un territorio e insomma in una parola ehm dare a loro l'opportunità di esercitare una cittadinanza attiva sono ragazzi giovani perché abbiamo sia scuola media che scuola superiore però la cittadinanza attiva si comincia ad attivare non dico eh già nell'elementare nella scuola elementare e magari anche alla scuola materna proprio come attenzione ai comportamenti positivi eh di rispetto dell'ambiente e delle persone che non conoscono età bene sfondi una porta aperta su questo argomento qui perché lo prendo come impegno già fin da adesso quello di portare i municipi tre quattro e cinque questa idea di di poter eh esportare questo progetto del municipio otto anche i tre municipi nostri che sono proprio collocati lungo l'anno grazie grazie a voi è stato molto interessante direi adesso se ci sono domande eh possono essere fatte se no eh visto l'ora l'abbiamo raggiunta anzi superata comunque possiamo aspettare ancora un attimo se ci sono domande sono a questo punto direi Gianni eh sì ci sono altre domande possiamo anche chiudere qualcuno ci ha lasciato ci hanno salutato le due relatrici dell'istituto Molinari avrete visto dalla chat qualcuno appunto è andato perché appunto abbiamo superato l'ora prevista io direi che possiamo ringraziare tutti i relatori ma anche tutti gli altri per l'attenzione prestata tu Gianni fai presente che se uno volesse vederlo o farlo vedere in differita è registrato sui siti di è registrato sulla pagina facebook dell'osservatorio e anche sulla pagina facebook di circola l'altra associazione che ha organizzato con noi questa questa cosa va bene allora allora buona serata grazie a tutti buona sera buona sera grazie 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 ciao 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 ciao